bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono geni mio questo video che farò oggi spero di riuscire a farlo uscire in tempo alle 19 e 30 oggi di domenica perché sto registrando proprio in diretto montando tutto quanto adesso mattina prestissimissimissimo ragazzi però perché volevo comunque far uscire la cosa allora non sarà molto lungo anzi sarà veramente molto molto corto perché non ho tempo veramente di editare non ho proprio molto tempo quindi scusate se il video sarà veramente corto scherzavo ragazzi non è che volevo un attimino un po' parlarvi comunque della prossima meta dove andrò perché sono in chiusura di stagione quindi ci vediamo dentro il video bene ragazzi allora come avrete notato siamo tornati ancora con il microfono quello lì che purtroppo fa un po' cacare vabbè e quando poi avrò i soldi mi comprerò quello di ptpie volevo appunto un attimino parlarvi di quella che sarà appunto la prossima meta dovrei partire praticamente in teoria ottobre giù di lì metà ottobre e dovrei andare ragazzi alle Maldive ci ho messo io il suono perché non so se ho la traccia audio vabbè comunque volevo appunto parlarvi di questa cosa come vedrete in sottofondo cioè nel video che sta passando è un timelapse l'ho fatto così perché siccome va di moda mettere praticamente video e parlarci sopra anche se non lo fai tu ma te ne accolli meriti non è vero troverete link in descrizione volevo appunto parlarvi di questo mi spiace se non è un tipo di video magari come gli altri non so se vi piace o meno questa cosa però non l'ho mai fatto forse probabilmente un vlog dove parlo di cioè parlo io nel senso che mi metto così la rota libera a parlare è figo però è figo intanto mentre registro mi sto guardando le immagini vabbè a parte questa manica di fatti miei dovrei appunto andare alle Maldive e dovrei rimanere in ferie praticamente due settimane parto mercoledì e ritorno in Italia spero anche che questo video riesca a uscire in tempo per oggi alle 19.30 impossibile ragazzi quindi perdonatemi se non è uscito la domenica alle 19.30 come gli altri cercherò di fare il possibile ma sono veramente strapieno di lavoro perché dovete sapere che io lavoro in villaggio faccio animazione e quindi non ho tutto questo tempo per editare per montare perché giustamente ho un lavoro ho degli ospiti da seguire ho delle attività da fare durante il giorno e degli spettacoli la sera se non li avete visti guardatevi la sezione degli sketch log e li trovate un po' di spettacoli spettacoli miei così mi dite anche cosa ne pensate se mi fanno schifo oppure se sono bellini o perlomeno carini quello della bambola è piaciuto molto sì quello della bambola è piaciuto molto 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 e allora niente volevo appunto fare questo vlog e parlarvi di quello che sarà la prossima meta dovrei andare in quest'isola veramente paradisiaca ragazzi veramente uno spettacolo uno spettacolo è veramente molto bella è un'isola appunto che si trova nelle Maldive e non posso fare il nome per pubblicità ovviamente potrei farlo ma non so se posso farlo quindi onde evitare io non vi dico che isola è però potrete vedere sicuramente tutte quante le foto sulla mia pagina facebook quindi mi raccomando taggatemi dai diventiamo amici la sua pagina facebook è su instagram e poi naturalmente lì continueranno i vlog e i vlog e tutto quanto gli sketch log e tutto eccetera eccetera quindi passerò lì l'inverno e dovrei tornare non ne ho idea non ne ho so che figata stanno intanto questi guarda che storia no cos'è no bellissimo è praticamente Nettuno Nettuno a cavallo di un cavallo marino Blue Island che figo ragazzi no vabbè comunque volevo appunto fare questo video volevo anche naturalmente ringraziare tutti quanti perché vedo che gli iscritti crescono di giorno in giorno fatemi sapere magari nei commenti che cosa che cosa volete voi da youtube nel senso voi perché fate i video su youtube io personalmente lo faccio perché mi piace mi piace mi diverte mi piacerebbe veramente tante persone che si iscrivino al mio canale per fare contenuti sempre nuovi naturalmente mi piacerebbe fare cose che piacciono a voi quindi allora detto questo ragazzi io volevo appunto avvisarvi di questa cosa scusate se il video ancora una volta scusatemi se il video non uscirà in orario quindi alle 19.30 comunque vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale io adesso sono lì per lì per finire questo vlog e niente tra poco esco esco dal computer mi disi minecrafto e ritorno normale quindi verosimilmente tra 3 2 1 bene ragazzi allora io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale commentate lasciate l'hashtag ciao Gianni Miao se volete essere sponsorizzati nel prossimo video e ci vediamo alla prossima bella ragazzi boom baby how are you today e ci vediamo alla prossima